Oggi c'è RadioRomalibera.org, la prima emittente di podcast 14 in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org La demonologia, la scienza che descrive il demonio per riconoscerlo e combatterlo, costituisce un punto nevralgico per numerose problematiche umane e religiose, psicologiche e sociali, etiche e teologiche. Questo imponente volume, curato da Don Renzo Lavatori, risponde ad alcune domande di fondo. Perché esiste il male? Qual è il potere del diavolo? Quali i suoi modi di manifestarsi? Raccogliendo testi biblici canonici, apocrifi e gnostici, attingendo ai padri della Chiesa e alla letteratura cristiana, il curatore dell'opera ci presenta direttamente le fonti e gli autori da cui è nata e si è dispiegata la demonologia del primo millennio di storia della Chiesa. Il diavolo è declinato sotto molteplici aspetti, filosofico, psicologico, teologico, esistenziale, spirituale e antropologico, perché Satana è capace di assumere le fattezze più insolite e di fare le cose più strane per indurre in tentazione i santi e gli uomini comuni. Ma la lettura di queste pagine si conclude nella consapevolezza della sua disfatta se le creature razionali e libere collaborano al piano redentore di Gesù Cristo. Il professor Renzo Lavatori ha insegnato per anni teologia dogmatica alla Pontificia Università Urbaniana e presso altre Pontificie Università Romane ed è autore di numerosi libri e pubblicazioni di approfondimento teologico sulle verità della fede. Oggi c'è RadioRomalibera.org, la prima emittente di podcast 14 in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org e per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org e per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org